Ai passeggeri del volo N2014 della compagnia Banda Nauta, si ricorda che le procedure d'imbarco per il volo in partenza d'Agua Plano con destinazione Music Racer inizieranno a breve. PIK 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 SIX PIK TIK TAK Banda Nauta è un progetto di poesia in musica con base a Reggio Emilia, un tentativo di aeronautica in note e versi. Il nostro primo lavoro si intitola Agua Plano. Le parole e la voce sono del pilota Nazin Comunale. Poeta e musicista. Completano l'equipaggio lo steward Gabriele Merli, polistrumentista sardo, l'assistente di volo Stefano Lugli, trombonista e pittore, e il comandante Andrea Papini, jazzista. Quest'estate abbiamo registrato il nostro primo disco. Il cd sarà legato a un libro con le sei poesie che abbiamo messo in musica. Le poesie parlano di incontri, di disincontri, di dirottamenti, di bar alle sette di mattina, di amori, di disamori. Le musiche sono nate da improvvisazioni, avvistamenti, bedinamenti di un'idea, fughe, depistaggi. Ora, per poter spiccare il volo, la compagnia Banda Nauta ha bisogno di carburante. Dateci una mano a decollare.